Oh cazzo, interrompiamo momentaneamente la trasmissione per fare una comunicazione interna e questa sarebbe poi una rete di servizi. Mi dispiace poi interrompo il programma. Allora brevemente per i fratelli, voi cambiate canale, divertitevi, guardate i media, quello che vi faccio. Allora brevemente fratelli, dunque operazione è cacciare, chi si vuole mestilizzare o no, qua mi dico che non riesco a stare dietro, il ragazzo è ruente. Allora proposta mia, facemmo un zip come una carta di Francesca, quello sporcava dappertutto, un'operazione che prende 10 minuti, non si può fare, che è una semplicità estrema. Con Carini, con la cosa del Yemen, si sta sistemando, non è il caso di fare fretta. Tg1, abbassare politica, attirare su la cronaca rosa. Quelle cose, modelli e calciatori, a rotazione, a rotazione, non vi fissate una modella o un calciatore, fate cambiare, cambiate, vieri, 3 su vieri, 3 su totti, questa è la modella. Siete picri, comunque Tg1 omette notizie 3 e 7, tagliare la 9, ultima inquadratura. Tg2, bene così, a proposito, notizia 4 portare in testa, notizia 1 togliare e bruciare, notizia 6 dare disturbi d'audio, si capisce o non si capisce, uscite dicendo, abbiamo problemi tecnici, vedremo la notizia in seguito. seguito che poi, come sappiamo, non verrà mai. Allora, ai fratelli Black Blocks, Firenze, fatta la cosa, fatta la cosa, fatta la cosa, riparare agli uffizi o a Santa Maria Novella, dove sarà offerto un rinfresco, ecco. Oh, mi raccomando, questa volta, riversamento da Genova, chi fa il Black Blocks non fa la polizia, sceglietevi i ruoli prima, chi fa la polizia non fa Black Blocks, che l'altra volta hanno fatto la foto, due guaglioni hanno fatto tutte entrambe le cose, un po' uno fotografo inglese che poi sappiamo la fine che ha fatto, l'abbiamo dovuto, si è caduto, si è imbiccato, non mi ricordo che cosa abbiamo fatto. Niente a venire di protagonismo. Presidente Carletta a filmare legge 9, 15, 21 bis, rifiutare di firmare leggi 24, 81, respingere alle camere legge 32, ricordarsi di Asmara, una vittoria negata, preparare messaggio a reti unificate per prendere pesce unificato, tu mi hai capito, andiamo avanti o cazzi è uguale. Allora, brevemente, comunicazione per Gingino Zanda, le due dimissioni sono rimandate, a dopo pubblicità. Prossimo turno Collina arbitra la Juve e la famiglia non si oppure, come i cazzi che tengono con la Fiat Steel hanno sta buoni, insinuare Mussi dietro la tragedia, le dì e infine per favore, rientrate un Savoglia alla volta, rientrate un Savoglia alla volta e non li ammassate, nelle zone 4 e 10. Grazie, ridate la linea a quei poveri a morte di fama, queste puzze, hanno già fatto le colpe, questa non è la palla buona, questa la fa qua, questa è la palla, questa è la palla, questa non va buona. Oh che anno difficile questa. Buonasera. Grazie.